Allora, presento la nostra azienda, l'azienda Vinicola Castelfeda, siamo un'azienda a conduzione familiare, mio fratello Ivan è l'enologo, mio papà, mia mamma e io ci occupiamo delle vendite e dell'amministrazione e l'azienda è situata a Cortina sulla strada del vino, nel sud dell'Alto Adige, al sud di Bolzano, circa 20 minuti. Originariamente l'azienda era a Egna, nel centro storico, fondata da mio nonno a quel tempo e dopo però ci siamo trasferiti a Cortina per motivi di spazio, perché nel centro storico di Egna lo spazio era un po' ridotto. Al momento vinifichiamo 50 ettari in totale, dei quali 15 sono della nostra proprietà e il resto sono conferitori di Duva che però collaborano con noi per avere la qualità maggiore. Di Vitigni, nella nostra linea classica, che è la nostra linea rappresentativa, facciamo tutti i vini bianchi e tutti i vini rossi tipici dell'Alto Adige. Partiamo da Chardonnay, Pinot Grigio e Pinot Bianco e poi ovviamente gli aromatici Sauvignon, Gewürztraminer, Milot Turgau e nuovi dall'anno scorso anche un Moscato Giallo Secco e un Kern. Dai rossi ovviamente i vitigni più importanti sono la Schiava, Lagrain e Pinot Nero. E poi questa è un po' la nostra linea classica, poi abbiamo una linea di riserva che è il Burgum Novum, che sono vini baricatti, vini un po' più importanti, un po' più particolari. E poi abbiamo la nostra linea Villa Carnite, che è un podere di circa 8 ettari, 10 minuti al sud dell'azienda e qui facciamo 4 vini al momento e introduciamo anche un Gewürztraminer, che sarà poi il quinto vino. Questi vini qui provengono da un terreno particolare e sono tutti in parte invecchiati in baric, che è un po' anche quella cosa particolare perché nella nostra linea classica preferiamo vinificare i vini bianchi solo in acciaio, molto freschi e questi qui sono in parte invecchiati in baric. Facciamo uno Chardonnay, un Pinot Grigio, un Merlot e un Lagrain, lagrain tipico vitigno autoctono altoatesino e introduciamo anche un Gewürztraminer, un altro vitigno nostro molto importante per noi. Su questi vini abbiamo scelto di collaborare con questo progetto Vino Parlante perché per noi è molto importante che la gente abbia più informazioni sull'azienda e anche sul vino e che proprio questo podere particolare, da dove provengono questi quattro vini particolari, anzi cinque, siano spiegati di più e la gente abbia l'occasione di sapere di più sul terreno, sui vitigni, sulla vinificazione e anche sulla nostra azienda in generale. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!